Settembre a Gubbio ha il segno più ottobre andrà ancora meglio. Ne ha convinto l'assessore al turismo Nello Derisi Fiorucci che snocciola i dati dell'andamento turistico nel mese settembrino, tutti con il segno positivo sia rispetto al 2017, più 10,2% sugli arrivi, più 1,7% nelle presenze, sia soprattutto rispetto al 2015, un buon anno per il turismo. I dati del 2016 inutili da commentare, va ricordato che a fine agosto ci fu il terremoto di amatrice che comportò il crollo del turismo nel centro Italia, quindi il più 38% odierno rispetto ad allora è un dato chiaramente drogato. I dati sono buoni anche guardando ad un lungo periodo, ovvero ai primi nove mesi del 2018, più 18% gli arrivi rispetto all'anno scorso, più 8,7% le presenze. Il raffronto è negativo rispetto al 2016, in questo caso perché quell'anno fino al terremoto di agosto fu straordinario, un boom per quasi tutta l'Umbria. Il raffronto con il 2015 è più veritiero per l'assessore Fiorucci e comunque ha il segno più. Criticità restano soprattutto sulla capacità di Gubbio di attrarre stranieri e su quella di tenerli più di un giorno o una notte in città. Il soggiorno è ancora troppo breve. L'introito dell'imposta di soggiorno, quella che si applica a chi dorme in città e dunque rappresenta uno dei valori con il quale misurare l'indotto, è fino al mese di agosto di 168 mila euro. Il bilancio di previsione pronostica entro dicembre di raggiungere quota 230 mila. Possiamo farcela benissima, afferma Fiorucci. In questo dato non ci sono né settembre né ottobre che con il FIA il Climb Masters ha fatto il tutto esaurito, tantomeno c'è Natale che per Gubbio rappresenta una fetta strategica del turismo annuale. L'assessore citando il FIA sposta l'attenzione sugli eventi, quelli che sono importanti e fondamentali per il turismo, come il caso della corsa automobilistica, ma che non essendo fissi non possono essere l'unica arma a disposizione del comparto. Dobbiamo consolidare il brand di Gubbio come città della cultura e città medievale, afferma. Nasce con questo scopo la mostra sui giotteschi che, apertasi a luglio, chiuderà i battenti il prossimo 4 novembre. Una mostra non da grandi masse, ma da turisti raffinati, colti, disponibili, ad impiegare tre ore del loro tempo per girare tutte le sedie espositive. Quei turisti che servono a Gubbio, spiega Fiorucci, che annuncia in mancanza di dati ufficiali per settembre ed ottobre, con l'arrivo delle scuole, comunque una impennata degli ingressi. Se la mostra sui giotteschi è uno dei pilastri di questa macchina di comunicazione finalizzata a costruire una determinata immagine di Gubbio, il Festival del Medioevo è l'altro pilastro Pandà. Un evento che anche quest'anno ha confermato la qualità con un parterre di relatori internazionali. Non dobbiamo andare alla ricerca del numero sulla presenza turistica, spiega Fiorucci, qui è l'immagine quella che dobbiamo perseguire. Non farebbero scomodo tuttavia risorse economiche maggiori. Il comune di suo investe tanto, la regione in realtà è un po' più parca, qualcosa come 10.000 euro che per un evento di portata internazionale sembrano una miseria. Aspettando il Natale, la scommessa dell'anno, Gubbio si gode a fine mese la mostra del tartufo in una rinnovata veste affidata all'organizzazione di host e comunità montana. Più food, inteso come ristorazione di qualità, è il must di questo anno zero al Centro Servizi Santo Spirito dal 31 ottobre al 4 novembre.